a vent'anni fa una all'anno no? si una all'anno esatto, quindi tu avevi 9 anni quando loro partivano per la prima volta si esatto, i giovedini di gata saranno quelle, saranno la bici perché saranno finta a piedi ragazzi stanno suggerendo correttamente le gremie di portetta, con 3 minuti in prima sarà davvero spettacolare, tanto qualcuno arriva a saltare e farà avanti alla... è la gioia, è la gioia, è la gioia per la sali ma bene guarda quanti quanti sono in sì è vero no ma è il mio amore intanto la segreteria era tipo la segreteria 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti